Ciao e bentornati o benvenuti nell'atelier dell'italiano. Io sono Valentina e in questo breve video oggi voglio parlare dei dolci di carnevale. Oggi è il mardi gras, martedì grasso in italiano e in Italia i dolci di carnevale sono molti e diversi in tutte le regioni italiane ma presenti dappertutto. Lì in Italia vous pouvez trover des boulangeries comme ça. Donc avec plein plein de desserts de carnevale. I dolci di carnevale sono semplici ma molto golosi, vraiment gourmands. Quasi tutti sono fritti e sono fatti con degli ingredienti semplici come la farina, le uova, il limone, lo zucchero, il miele e a volte delle creme come il cioccolato o la crema che noi chiamiamo chantilly. Il dolce forse più conosciuto e più tipico è quello che nella mia regione viene chiamato le frappe, ma hanno molti altri nomi come ad esempio le chiacchiere. Chiacchierare, vous vous rappelez, ça veut dire bavarder, papoter e in effetti chiacchiera viene dal verbo chiacchierare. Ma in ogni regione d'Italia hanno un nome diverso. Donc si vous connaissez quelqu'un italien, vous pouvez demander comment le chiacchiere s'appelle dans sa région parce que je suis sûre qu'il change, qu'il nome cambia nelle varie regioni. Un altro dolce che è il mio dolce preferito di carnevale sono le castagnole. Queste castagnole sono preparate dalla mia mamma. Donc ce n'est pas trop compliqué de préparer le castagnole à la maison, faites maison. Vous pouvez chercher la recette si vous voulez. Sono come delle piccole palline fritte e gli ingredienti sono uova, farina, zucchero e limone. E esistono molti altri dolci tipici di carnevale, ma volevo raccontarvi questi due perché sono molto comuni in Italia e so che non è così tipico avere dei dolci per questo periodo dell'anno, ma in Italia sì. Un'ultima curiosità. Sapete come si chiamano questi in italiano? Attenzione perché rischiate di confondere con un'altra parola. Noi chiamiamo questi in italiano coriandoli. Invece chiamiamo questi confetti. Una cosa molto diversa. Buon carnevale a tutti e al prossimo video. Ciao!